E' un po' nell'aria questo risultato, non c'era quell'onda che si avvertiva sul referendum dell'acqua per fare un esempio abbastanza recente. Credo che sia stata comunque un'occasione importante per discutere, per mantenere alta l'attenzione, per continuare a lottare in difesa del territorio, della natura, della vita, contro le lobby, quindi sono lotte mai perse ma importanti. Poi c'è una riflessione complessiva sul referendum che va fatta, insomma anche su come vengono svolte le elezioni, com'è l'informazione, quando si devono svolgere le elezioni, insomma questo è un discorso un po' più complessivo. Io quello che so, diciamo che nei nostri territori ognuno difenderà strenuamente il territorio. Noi a Napoli lo difenderemo indipendentemente dal referendum. Il referendum era una battaglia nazionale, io voglio portare un grande abbraccio umano, istituzionale e politico al popolo della Basilicata, che è un popolo importante con la schiena dritta, che ha compreso l'importanza del referendum. Per il resto noi nella nostra città lottiamo ogni giorno perché quel tipo di interessi politici, affaristici e fino anche criminali non possano mai mettere le mani. Non c'è un 75, 70, 80, quello che persone sono a favore delle trivelle. Messa così è impensabile, è che non è stato percepito, capita certe volte nei referendum. Nella nostra città quando è il momento della chiamata alle armi democratiche c'è sempre la risposta, è stato con l'acqua pubblica ed è l'unica città d'Italia che ha rispettato quel referendum e quando ci sarà il momento di difendere i nostri territori il popolo napoletano non delude mai.